intanto ciao luca ciao mio omonimo ciao luca raccontami un po della famiglia quindi prima che nasca il ballo che nasca tutto questo in che famiglia nasci mio padre meccanico vicino prima valle una zona dimenticata da dio all'epoca la zona dove mettevano gli avanzi di galera vedevamo anche san pietro da casa però eravamo fuori sembrava una cosa c'erano le pecore i prati adesso pieno di casa adesso è roma sei al centro di roma all'epoca no e quindi mio padre al meccanico aveva sotto casa l'officina mia madre casalinga nata benevento aveva sposato quest'uomo che la teneva a casa casalinga due figli casa in affitto salottino mia sorella dividevamo il divano ok quindi una vita molto umida diciamo molto semplice finché poi mio padre non è diventato campione di formula 3 costruiva macchina corsa spendeva tutto quello che guadagnava su macchine donne e non è mai stato a casa presente quindi io sono cresciuto come un bambino molto particolare a quello che dicevano gli altri per me era normale naturale essere chi ero però papà non stavo simpatico e quindi sono cresciuto con delle difficoltà si vergognava di me me lo diceva di stare zitto per come parlavo si vergognava perché avevo la s moscia e quindi insomma il quadro è questo noi stavamo in affitto eravamo poveri e tutto quanto io inizio a sentire la musica la musica l'unica cosa che mi dava sollievo mi faceva sentire bene e ballavo quando sentivo la musica a che età hai cominciato a ballare e ascoltare musica dunque a nove anni sono andato alla scuola di ballo però prima da subito era l'unica cosa che mi faceva stare bene da solo poi ballavo e mia madre mi vedeva mia madre molto complice mia madre molto legati mia madre vuole fare la ballerina da da bambina ma non è stato permesso perché doveva fare servizio ai fratelli maschi che andavano a studiare le donne a casa quindi una donna sempre a servizio di qualcuno sempre a servizio di qualcuno a servizio di papà finché non diventa il mio angelo custode protettrice e scudo tua sorella che ruolo ha in tutto questo più grande più grande di cinque anni no da bambina mia sorella protetta da da papà in un certo senso dalla famiglia di papà quindi era quella che scappava sempre molto ribelle non studiava ma voglia di fare niente io il buon esempio di mamma tutti dicevano che bravo luca quelli dentro casa invece per strada non era non era così insomma ero visto come il diverso veniva aggredito spesso quindi ho subito atti di bullismo anche violenza e quindi è stata insomma atti di bullismo violenza a che età e per quale motivo io direi da sempre perché perché ero libero e intanto ero bello lo sto scoprendo adesso io se riguardo le foto di quando ero piccolo ero bello però sembrava una femmina perché avevo dei lineamenti delicati adesso sono sembro un meccanico come mio padre ero sempre aditato comunque come quello diverso alla comunione mamma perché non potevo permetterci il vestito mi ha detto ma luca non compriamo la giacca ma in gilet sarai diverso da tutti e io ero fomentato da questa idea di essere diverso da tutti certo questo poi ha creato comunque un'unione tra me e mamma e quando abbiamo visto poi camminando questo manifesto dove il cinema aveva chiuso in zona quindi era proprio una zona Enzo Paolo Turchi stava aprendo una scuola di ballo a cento metri da casa mia che sono poi diventati cento metri della passione per arrivare lì ogni giorno ai nove anni nove anni io mamma ci fermiamo mano e la mano davanti è lì mamma mi fa vuoi andare dico sì sì voglio ballare e quindi di nascosto da papà mi sono iscritto con i soldi nascosti di mamma perché lei non aveva soldi e quindi nascondeva delle cosettine abbiamo fatto l'iscrizione io andavo di nascosto poi mi hanno scoperto è diventato sempre più difficile papà diventato sempre più aggressivo e violento quando dicevo violenza e bullismo da parte anche di mia cugina per strada perché stava insieme al gruppetto e quindi mi urlavano cose dietro davanti mi impedivano a volte di arrivare a scuola quindi mi nascondevo c'era la signora di Bineoli c'erano i Bineoli prima a Roma quando ero piccolo mi nascondeva dietro al bancone perché sennò mi aspettavano fuori per menarmi quindi ma questo perché ti volevano menare ti bullizzavano perché li provocavi perché eri diverso e quindi erano invidiosi c'era un motivo per cui tu attraevi la cattiveria diverso non so io forse non mi ricordo quanti anni avevo però amavo Michael Jackson il mio idolo e quindi mi fece la permanente perché 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 dicevo mamma mamma guarda che belli capelli di Michael e dico come fa a farli così e lei fa c'era con la permanente e dico la voglio fare pure io ero questa ero molto naif molto quindi era quella la libertà di cui parlavi cioè libera di vivere la vita che ti sentivi dentro e per gli altri eri diverso e ti additavano per questo forse anche il fatto che papà non mi difendeva per strada o sotto casa si girava dall'altra parte quando succedeva e io lo vedevo che lui sentiva ma non faceva niente per difendermi parliamo solo di tuo padre rimaniamo centrati su questo argomento quindi ti iscrivi a scuola di danza nel 79 era una cosa normale che un maschio ballasse no non era normale in nessun posto dell'italia o eravamo nessun posto dell'italia eravamo soltanto tre maschietti e poi diventati tre coreografi abbastanza famosi fra fabrizio mainini che lavora con carlo con carlo conti con cui mi sento ancora e con manolo casalino che era il coreografo della corrida per esempio eravamo tre maschietti contro tutti ma poi gli unici intanto è vero che lavoravo tanto da bambino mi ricordo che era difficile questo poi lo capisco il tempo per una trasmissione televisiva per esempio gino landi o pipo baudo passavano spesso dalla scuola di enzo paolo e l'idia turchi che la sorella e per cercare dei ballerini maschi che era una cosa rarissima che mi sceglievano spesso quindi per te era un'opportunità opportunità enorme io iniziai a lavorare a 11 anni ho fatto driving a 11 anni con carmen russo enzo paolo che quello mi presero perché ero tipo il figlioccio ormai diventato nella scuola stavo sempre con loro sono cresciuto con loro ma un padre che ha un figlio che a 11 anni lavora che è una cosa folle no nel senso se ci pensi a 11 anni una persona va a scuola e gli paghi dei corsi sport tante altre cose ma non non guadagna del denaro il contrario investi tu un po su quello che è la sua formazione e non ero orgoglioso di questo no perché uno dei primi lavori fu un po comica la cosa adesso far ridere ma non faceva ridere all'epoca fu il calippo arrivò il calippo in italia debuttava il calippo mai visto prima e chi era l'interprete protagonista quindi pensa quando è uscita una pubblicità importantissima uno spot dicevi no spot video televisivo che andava da tutte le parti anche sulle reti principali tutte le sere in prima serata e io col calippo in mano e 20 ragazzine che urlavano dietro di me io che ballavo ho visto lo spot visto lo spot e quindi a prima valle questo spot mi fece malissimo mi facevo mi cantavano la canzoncina calippo ipo ipo si può fare qua pubblicità così possiamo fare quello che vogliamo siamo su piattaforme gratuite libere e ritorniamo su tuo papà ho letto che tuo papà era aggressivo che cosa vuol dire vuol dire che era fisicamente violento usava molto le mani vuol dire che picchiavo che spaccava delle cose spaccava le cose picchiava fino a mamma è stata all'ospedale tante volte una volta in coma davanti a te è mai successo purtroppo è successo anche davanti a me è successo parecchie volte è successo per me per colpa mia io mi sono spesso sentito anche in colpa perché tua mamma ti difendeva su una scelta mi difendeva per andare a scuola di ballo soprattutto quando ero piccolo adesso racconto due o tre episodi in modo che puoi capire e possono capire le persone che ascoltano per esempio una volta ancora mi ricordo che mi tirò una posa cenere di quelli di cristallo anni 70 di quelli pesantissimi quadrati così in camera da letto io ero tipo a due metri distanza mi ha tirato in faccia e io non parlai per settimane avevo anche delle questo mi è stato raccontato insomma dopo delle delle sedute con uno psicologo per aiutarmi a tornare a parlare perché tra il trauma del posa cenere il fatto che lui si vergognasse di me io non ho mai parlato madonna mi ha aiutato molto a superare queste cose poi magari ci arriveremo ci arriviamo poi dopo ma lo psicologo tuo padre ne era il corrente mamma faceva tutto di nascosto papà non voleva assolutamente aiutarmi ma poi non riconosceva nemmeno quella come una come uno strumento insomma non ne conosceva la la forza o comunque il fatto che potesse qualcuno aiutarmi in realtà si vergognava e voleva semplicemente annientarmi annullarmi io sentivo anche la casa era talmente piccola io sentivo quello che lui diceva di me ti ricordi una frase che ti ha fatto male sì era prima a chiamarmi frocio di merda ok procetto perché lo piccolo sta diventando procetto per colpa tua quindi dava colpa a mamma la picchiava anche in camera letto finché un giorno non è successo proprio a tavola cioè papà non veniva mai a pranzo né a cena non ha mai pranzato e cenato con noi forse dieci volte in tutta la sua vita mi ricordo il giorno che ha scoperto proprio che io andavo a scuola di ballo tutto venne a pranzo per improverarci tutti e mamma mi difendeva e a un certo punto stava urlando proprio ma tanto forte si è alzato da tavola tavola era piccola ma noi quattro e prende la bottiglia dell'acqua di vetro e la rompe contro il muro e va contro mamma per per tagliarle la gola insomma per ferirla e io mi sono messo davanti a mamma e per la prima volta gli ho urlato in faccia vattene 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 devi andare via finché non se n'è andato tirai fuori la forza che in realtà non avevo mi inventai il coraggio che poi inventarsi il coraggio aiuta spesso io non sono coraggioso sono pauroso però spesso ho inventato il coraggio di imitare quelli che facevano grandi cose nella vita però dentro di te avevi paura tanta però era necessario farlo quindi ho dovuto farlo per corazzarti per non far avvicinare chi poteva farti del male era successo un episodio abbastanza grave qualche tempo prima che mamma ed io non avevo più soldi lui per non far pagare la retta della scuola di ballo non ci dava nemmeno i soldi per mangiare perché mamma aveva deciso che io avrei ballato e quindi noi piuttosto non mangiavamo un pezzo di pane però pagavamo la scuola di ballo avevi nove anni quando è successa questa cosa giusto ancora non avevi cominciato a lavorare a guadagnare dei soldi come erano i tuoi nonni con il loro figlio lo picchiavano quando lui era piccolo sì penso di sì penso di sì perché la modalità di tutti i fratelli di papà purtroppo ce n'è purtroppo dico ce n'è ce n'è rimasto soltanto uno la modalità vuol dire essere maneschi maneschi e la cosa strana è che tutti i fratelli di papà tra di loro non si parlavano non si salutavano e nessuno diceva niente io sono cresciuto con gli uomini di casa anche nonno che parlavano soltanto con alcune persone ma anche a tavola non si facevano gli auguri natale non si salutavano quindi evidentemente c'erano dei traumi subiti io penso anche sessuali anche c'era una tensione molto particolare in famiglia oggi vengo ancora minacciato lo dico dai miei cugini da mio zio mi ogni tanto vengono dei messaggi dove non gradiscono questo che sta succedendo adesso io che parlo che tu ne parli questa è l'infanzia con tuo papà che è stata insomma difficile tu lo temevi tuo padre? no no io lo temevo avevamo tutti paura io facevo finta di dormire quando papà tornava alle 3 e le 4 di notte veniva lì a controllare se stavamo a letto soprattutto avevo paura dopo che mamma una notte ci prese a me e mia sorella mentre stavamo dormendo tipo alle 2 di notte ci prese eravamo piccoli non mi ricordo almeno l'età e ci portò con un taxi io non ho mai stato in un taxi prima in vita mia perché non avevamo la macchina non avevamo niente nemmeno il motorino ci mise in un taxi insieme e andammo di notte davanti a una villa scendemmo davanti a questa villa che sta ancora lì ogni tanto ci passo dove è morto papà poi lei suona il citofono e si affacciano tre persone dalla finestra dietro la tenda ed era papà con la sua amante e la madre dell'amante che ci guardavano su una scena di un film noi eravamo sotto la pioggia una scena di un film terribile e mamma ci guardò e ci disse questo è papà l'altra persona perché papà è questo vive qui papà ci riportò a casa ci rimise a letto e ci disse fate finta di dormire perché adesso arriverà infatti è arrivato tipo dopo 5 minuti che stavamo e mi ricordo che successe il film mondo dentro casa quando tuo padre se ne va e taglia i viveri e la famiglia tua mamma comincia a lavorare? sì inizia a fare le pulizie da una signora l'unica cosa che poteva fare così sapeva fare e quindi insomma inizia a lavorare io inizio a imparare a cucinare a pulire casa mia sorella non faceva assolutamente nulla e quindi eravamo io e mamma quindi insomma sei cresciuto in fretta in quegli anni frettissima sì sì hai detto poi che tuo padre è venuto a mancare quanti anni avevi? quando è successo? avevo 21 anni e ero tornato in Italia perché ho appena fatto il tour mondiale di Whitney Houston e in quel tour l'ho già detto ne ho parlato poco anche nel mio libro però ho avuto un'esperienza molto forte di Whitney Houston avevo 21 anni un anno di droghe di cose assurde cosa che io non avevo mai fatto perché comunque era un atleta era un ballerino e quindi decisi che l'unica cosa che potevo fare era allontanarmi da tutte quelle persone per smettere nel senso perché hai cominciato a frequentare il mondo della droga in quell'anno? costretti, costretto no perché ovviamente ma più che costretto ti sei trovato in un ambiente in un ambiente dove c'era solo 120 persone in tour ne sono morte forse 60 da quel tour Whitney compresa e quindi è stato un tour molto molto forte il mio primo tour mondiale Whitney si era molto affezionata a me Whitney e Robin che era la sua compagna si erano molto affezionate a me quindi stavo sempre con loro e quindi si festeggiava poi c'è stato l'arrivo di Bobby Brown insomma c'era Mike Tyson in tour con un'esperienza molto particolare che un giorno poi magari racconterò i suoi dettagli aeri privati, rimusini, gli alberghi migliori del mondo interi alberghi e quindi le droghe venivano comprate prima che noi arrivavamo lì quindi era tutto già lì, era tutto un'organizzazione disastrosa ho letto che tu Whitney Houston tendenzialmente l'hai conosciuta attraverso un'audizione vado all'audizione Whitney Houston contro tutto il mondo perché Whitney Houston cercava un ballerino alto, ballerini alti almeno un metro e novanta neri e io ero un metro e settantotto bianco quindi mi feci fare i tacchi interni come faceva papà nelle scarpe mi abbronzai in maniera imbarazzante, rustionato quindi non creme, abbronzanti, vai a fare lampade non esistevano, sì lampade, lampade su lampade e mi presentai all'audizione che non potevo nemmeno entrare perché era il suo appuntamento delle agenzie e invece come sempre sgomitavo perché quando c'era bisogno di sgomitare poi raccontami un po', nel senso tu vai negli Stati Uniti per la prima volta, hai 17 anni 17 anni e ci vai senza sapere perché ci stai andando, sì il sogno ah per studiare no per studiare, no no vado per studiare cioè il mio sogno era fame, saranno famosi e flash dance io avevo già fatto quasi tutto in Italia ero il primo ballerino della Cuccarini, il primo ballerino della Parisi questo fino ai 16-17 16 anni, 17 anni, avevo già fatto premiatissima con Enzo Paolo Turchi in prima serata su Canale 5 ero diventato l'assistente di una coreografa americana, Michelle che era la coreografo di Vola, la notte Vola da Cuccarini quindi da essere un ballerino avevi già esplorato un mondo del coreografo cioè stavi già andando a gestire cose per altri sì, avevo già conquistato quindi in sala prove con Lorella ero io che gestivo la coreografa, stavo a New York quindi a 17 anni gestivo già Lorella Cuccarini in prima serata il programma più importante italiano avevo già smesso di ballare perché ho detto no voglio fare l'assistente voglio fare questa esperienza perché ballavo già da tanti anni in televisione volevi fare il coreografo? non volevo fare il coreografo, non ero capace non pensavo mai di poter essere creativo non ho mai, quello è successo poi dopo Buona Domenica a Buona Domenica o comunque durante quel periodo perché ho iniziato a fare coreografie perché ballavo io con Kevin, quest'altro ballerino americano di Madonna e mi piaceva fare certe cose quindi scoprimmo insieme io e Kevin che potevamo fare le coreografie non ho mai pensato di poterle fare volevo tornare a ballare, volevo ballare come gli americani perché per me gli americani erano i ballerini più bravi del mondo quindi feci questo lavoro con Enzo Paolo Turchi come coreografo con un gruppo tutto americano e io e conobbi questi americani di New York e di Los Angeles che avevano fatto fame, tutti quei film lì e quindi loro mi dissero vieni a studiare a New York e Los Angeles quindi ho comprati il biglietto mamma fece il passaporto contro riuscì a far filmare papà in un modo assurdo sempre molto violento e partì per Los Angeles a 17 anni non parlavo inglese, mai preso l'aereo in vita mia e partì da solo quindi fu un'esperienza molto forte e avevi però questo contatto? avevi dei bridge? avevo il contatto quindi potevo dormire a New York a casa di queste persone però avevo pochissimi soldi quindi studiare era molto dispendioso perché pagavi a lezione non pagavi la mensilità come facevo quando ero piccolo e qual era il tuo piano? Trovarti un lavoro nel frattempo? trovarmi un lavoro ma ero illegale ero minorenne certo, è vero e come hai fatto? ho fatto, ho conquistato, non so sono andato a Los Angeles e ho fatto qualche lezione che ho pagato con George Remain che era il king di Los Angeles insegnante con la scuola più figa e George Remain dopo qualche lezione con il mio amico Ray Garcia che era un ballerino che era venuto in Italia gli dice questo Luca è italiano insomma divento Luca d'Italian e George Remain mi dice Luca tu puoi fare lezioni quando vuoi tutte le lezioni che vuoi questa è la tua scuola e mi concesse dopo che mi ha visto fare qualche lezione perché eri bravo? non lo so o perché c'è qualcosa nel tuo DNA che attrae? io non sono così bravo come ballerino tecnicamente non sono migliore di tanti altri tu dici sono come molti altri però c'era qualcosa di magico che succedeva nel tuo modo di relazionarti con gli altri o delle attenzioni che avevi nell'amore che sai dare? no anche nel ballare nell'energia che creo credo ok è più un fatto di energia o forse perché mi piace talmente tanto la musica ed è sempre stato qualcosa di molto speciale per me quindi quando ballo guardo in faccia alle persone succede qualcosa di magico quindi questo mi ha poi concesso e garantito di poter studiare e arrivare poi secondo me a tante cose parliamo del primo provino importante gli Oscar i miei due amici uno italiano e un'americana io dormivo nel loro salotto per terra sulla moquette ricevono la telefonata di invito all'audizione per gli Oscar per la notte degli Oscar con la coreografa più famosa del mondo con l'Abdul che era anche una cantante famosissima negli anni 80 certo io ovviamente rimango scioccato dico oddio non posso andare non posso andare quella mattina si svegliano presto e mi sveglio pure io e dico vengo pure io ma non puoi entrare non puoi venire non puoi fare il lavoro non ti fanno passare alla porta non hai la gente hai miliardi di problemi dico voi lasciatemi fuori al parcheggio così mi lasciarono fuori al parcheggio io feci il giro perché dentro gli studios non ricordo se Sony comunque gli studios quelli grandissimi a Hollywood con tutte quelle mura enormi comunque un blocco di Los Angeles ok io inizio a camminare intorno al muro a un certo punto vedo che il muro comunque con una bella rincorsa ce la puoi fare? ce la posso fare non so dove ho trovato il coraggio quindi tu nella tua infanzia hai imparato l'arte di arrangiarsi arrangiare trovi sempre una soluzione per arrivare al tuo obiettivo finale per questo sono bravo sul campo per esempio ho X Factor trovi sempre soluzioni se tu mi lasci qua dentro ti rivolto questa stanza ti faccio diventare tutt'altro è l'esercizio che ho dovuto fare imparare da ragazzino tant'è vero adesso ti salto da un'altra parte che ha X Factor il fatto di arrangiarsi mi aggrappa a questo ha funzionato molto perché per esempio io usavo le materie prime mi sono inventato questa cosa qua quindi il legno il ferro con Gigi lo scenografo e lo stesso legno lo stesso ferro la settimana dopo e prendeva forme diverse quindi questo mi ha sempre aiutato cioè guardare le cose i problemi e risolverli perché poi mi sono trovato spesso sempre da solo quindi Oscar sì gli Oscar quindi scavalco il muro esatto è lì che voglio capire come ti prendono una follia poi io ero comunque terrorizzato dagli americani alla polizia del fatto che ero minorenne che ero illegale che non c'ho il permesso di soggiorno di lavoro comunque scavalco corro verso la musica sento la musica in uno degli studi che poi lì dentro è una città vedo tutti i ballerini c'erano migliaia di ballerini perché quella era la cosa più importante dove ancora gli Oscar va in mondo visione la l'unica cosa in mondo visione e quindi mi metto in fila mi butto in mezzo adesso non mi ricordo trovo un numeretto mi metto il numeretto insomma chiedevano il nome per entrare dico no ma facevo film non parlo non parlo inglese non parlo inglese insomma che faccio e arrivo davanti al tavolo della giuria dove c'era comunque Paul Abdul e i suoi assistenti c'era Julie McDonald che è una grande gente e inizio a imparare una delle coreografie questa cosa va avanti tutto il giorno io continuo con una maglietta sola poi ero tutto sudato puzzavo di sudore tutti si cambiano bellissimi freschissimi io distrutto insomma mi metto lì a ballare a imparare le coreografie a farle tutti stili diversi supero ogni taglio ti dice nel nostro ok al fine rimaniamo in 40 passano tante 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 ore i miei amici vengono scartati tagliati spesso durante la giornata mi viene qualcuno vicino e dice devi andare via non puoi stare qui devi andare via e io lo me ne andavo non so perché poi sono rimasto contro tutto e tutti alla fine rimaniamo in 40 lei dice in inglese io non la capisco mi verrà poi raccontato dopo grazie siete 40 abbiamo bisogno di 20 domani chiamiamo i vostri agenti facciamo sapere chi ha conquistato il corpo insomma quindi nel tuo caso non ti avrebbero mai potuto chiamare mi giro vado verso c'era una borsa una busta a cercare qualcosa da mettermi a cambiare la maglietta perché avevo soltanto un cambio e poi l'autore si avvicina a me mi fa così mi giro e inizia a piangere ancora mi ricordo questa cosa inizia a piangere se me lo dice lei da andare via da andare via pensavo invece mi fa Luca 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 d'Italia mi inizia a parlare io non capivo niente I don't speak I don't speak I don't speak lei mi prende per mano mi porta fuori ancora mi ricordo aveva la Porsche col telefono quello da Charlie Senghor sai quel telefono degli anni 80 in mezzo enorme con la cornetta e che inizia a telefonare con il filo arricciato con il filo arricciato certo e inizia a chiamare il suo avvocato che poi mi scrive un bigliettino io stavo lì seduto vicino a me puzzavo ancora mi ricordo in quella macchina e ti dà il numero mi dà un numero e poi mi scrive 10 am 10 del mattino e domani mattina vai qui io torno a casa quella sera sto facendo lunga però interessante torno a casa quella sera a piedi ci ho messo ore mi hanno lasciato lì i miei amici torno a casa ero ospite a casa loro insomma torno a casa non erano felici per niente mi tirano tutte le mie tre cose dietro e mi sbattono perché loro non erano stati presi e tu sì quando non avresti avuto nessun diritto per poter fare quel provino lì mi prendono a parolacce e mi buttano fuori di casa e lì ho dormito per strada ho iniziato a dormire per strada ma la mattina alle 10 ho preso il taxi che avevo soltanto ancora mi ricordo avevo qualche tipo 200 dollari adesso non mi ricordo insomma ho preso il taxi perché i taxi a Los Angeles costano tantissimo perché le distanze sono enormi ho preso il taxi alle 10 ero lì a quell'indirizzo e lì mi ha iniziato a cambiare la vita perché Paul Abdul non solo mi ha preso per gli Oscar che poi mi stavo spiegato bene all'avvocato e tutto ma mi faceva un contratto di due anni per mettermi un contratto falso per permettermi di avere un permesso di lavoro e di soggiorno e che mi avrebbe dato un anticipo quindi ho dormito per strada qualche giorno e mi ricordo non ho mangiato e tutto poi ho iniziato a lavorare e mi diedero dei soldini insomma e lì ti è cambiato tutto è iniziato a cambiare tutto sì tante volte mi è cambiato tutto infatti perché leggendo un po' di te mi sembra una montagna russa la tua vita su giù su giù su giù infatti non mi fa più paura niente questo è anche un problema arriviamo ai tuoi 22 anni quindi dopo Whitney poi dopo ci ritorno un attimo tuo papà viene a mancare come te lo dicono dove sei in quel momento e che cosa fai papà quindi viveva con la sua amante ci aveva lasciati scopriamo che va a vivere con lei in quella famosa villa di notte che ho visto da bambino a un certo punto mi riavvicino a loro in qualche modo vado poi a vivere in America ma io l'ho visti due o tre volte insieme in quella casa lui ce la presentò a me da solo e poi a mia sorella per me era la zoccola che diceva mia madre la zoccola ruina la famiglia e io l'ho sempre vista così me l'andai in America tornai appunto dopo Whitney Houston mi fidanzai con Heather Parisi quindi era un periodo molto bello anche straordinario della mia vita perché tornai per superare il problema di tutte le cose che erano successe le droghe tu sei tornato in Italia per ripulirti un po' per ripulirmi per cambiare aria però mentre stavo in tour con Whitney Heather Parisi mi chiamò per fare un programma in Italia ok avevo già lavorato con lei a 17 anni in Spagna e mi chiamò lei dicendo Luca perché non vieni a ballare con me in Italia dico dai dai vengo senza dire di tutti i problemi quindi torno perché ho detto vicino a mamma io sicuramente non farò più niente basta vedere mamma perché non farei mai niente vicino alla mia famiglia i miei amici così fu dopo qualche giorno di sala prova gli avete ci mettemmo insieme andai a vivere con lei quindi diventò tutto super meraviglioso una storia molto bella che ho vissuto con insomma bella mio padre rientra un po' nella mia vita perché perché fidanzato con la Parisi quindi gli risolvo il problema del frocio mi chiama la segretaria e mi fa guarda papà non è all'autosalone è a casa quindi vai lì ti aspetta lì in realtà era già morto quindi arrivo lì a casa e vedo nonna mio zio fuori da casa che piangevano insomma tutta una storia abbastanza strana perché poi papà era già nudo sul letto era mattina senza più il suo orologio senza più la sua catenina già era sparito la valigetta con gli assegni da lì nasce tutto una roba bruttissima l'ambulanza non è mai stata chiamata quindi è morto di infarto cosa succede dentro di te quando vieni a sapere che lui è mancato rispetto al giornico mi stai descrivendo cosa senti dentro di te? una occasione mancata non ci sarebbe mai più stata l'occasione per convincere papà che comunque potevo essere una buona persona una persona per bene un essere umano e normale penso che questo l'abbia sempre saputo penso di no o perlomeno non avete mai avuto una conversazione una di numero guardando come io e te adesso guardandoci negli occhi è successo soltanto una volta in macchina prima che morisse prima vuol dire pochi giorni prima pochi giorni prima e papà in macchina per la prima volta mi guarda e mi dice sai Luca ho dei problemi economici ho dei debiti voglio sistemare un po' le cose mamma come sta non mi chiedeva mai di mamma e quindi ho trovato nello sguardo qualche pezzettino piccolo piccolo di umanità di umanità bene i miei confronti perché lui prima era un po' più orgo non mi aveva mai guardato negli occhi ma mai interessato io non mi ricordo nemmeno di un regalo di quando ero bambino di papà ma hai sofferto quando è mancato tantissimo sono stato sei mesi in giro per il mondo da solo disperato ma stavo male male per mamma male per quello che papà ha significato per tante persone perché era quello che mi faceva rabbia a me che papà aveva dei rapporti meravigliosi Tony Renis per esempio Tony che adesso è zio Tony ma lo era già quando ero piccolo era un cliente di papà quando racconto queste cose oggi a Tony o negli ultimi anni poi abbiamo vissuto a Los Angeles tutti e due io e Tony lui non ci poteva credere perché per lui Mauro era il più figo del mondo una persona carismatica brillante tutti innamorati di papà mia madre ancora lo ama malgrado tutto quello che mi hai raccontato malgrado tutto io ho avuto un papà 45 anni in più di me e mio padre da giovane ha fatto la legione straniera in Algeria quindi molto picchiato da suo padre non perché il padre era cattivo perché era probabilmente stato educato anche mio nonno a sua volta così da suo padre poi avendo fatto la legione straniera e tante altre esperienze nella vita era un duro era una persona che pensava che si risolveva un problema a volte con la violenza dimostravi a qualcuno che eri più forte di lui in quel modo non con la testa ma con la forza mio padre a differenza tua a me ha picchiato moltissimo lui si toglieva la cintura e con la cinghia mi cinghiava spaccava le gambe di una sedia e mi picchiava violentemente dovevo far finta di svenire per farlo smettere e nessuno poteva difendermi perché chiunque si permetteva di farlo in casa le avrebbe presa in quel momento quindi è solo con te è stato molto difficile e quando tu dici che avevi paura non di lui nella vita e quindi facevi finta di non averla con altri atteggiamenti ma dentro ti batteva il cuore questo è il trauma che probabilmente succede a chiunque abbia subito questo tipo di violenza e quindi mio padre viene a mancare a un certo punto io avevo tanta rabbia nei suoi confronti tantissima e quindi succede a un certo punto io ho fatto un percorso 12 anni fa 11 anni e mezzo fa che si chiama Hoffman quindi ho fatto un percorso con me stesso e lì ho cominciato a conoscere un po' meglio i miei genitori fai un percorso di condanna per poi perdonarli quindi mi sono detto ma tu continui a dire a tutti a tutti nella mia intimità evidentemente ma a me stesso le cose brutte che ti ha fatto mi ho cominciato a elencare le cose belle che lui ha fatto per me allora io oggi sono molto orgoglioso di aver avuto il padre che ho avuto mi sento molto più libero a livello di energia non mi viene più questo magone lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato te l'ho voluto raccontare solo perché magari puoi fare un percorso con te stesso per liberare io non penso però che mio padre mi abbia voluto bene questo te lo devo dire non lo penso e io ti credo ovviamente sulla parola perché poi lo devi sentire dentro il tuo cuore quello che realmente è stato non credo lui mi abbia voluto bene adesso entriamo nella tua splendida carriera e ritorniamo nel mondo pop e positivo quando scopri di essere creativo lo scopro a Buona Domenica con Lorella inizio con Kevin con Franco Miseria che Franco era molto affascinato da come io e Kevin ci muovevamo ma io ero il primo ballone italiano che tornava dall'America con uno stile anche su come mi vestivo avevo i piercing avevo i tatuaggi avevo i capelli mi facevo i capelli biondi e poi mi facevo delle punte in testa che tutti i ragazzi in Italia mi imitavano quindi tutti erano un po' affascinati da questo io non me lo ricordo adesso che me lo dici è vero e quindi facevamo trasmissioni in televisione spiegavo come fare i capelli una roba folle quindi copertine e cose e quindi questo influenzò anche il modo di ballare in televisione io iniziai a dire che il ballerino non dovevo più avere le scarpe da danza perché a me piaceva la donna col tacco perché Prince vietava le donne di togliersi i tacchi anche al letto quindi io dicevo figura di veri tacchi perché di essere femmina quindi all'orella è a convincere di togliersi le proprie scarpe come inventare le scarpe da ballo quindi iniziai a fare i vestiti per esempio dicevo noi dobbiamo indossare vestiti normali non la lycra come si faceva nei balletti vecchi quindi iniziai a cambiare anche il modo di vestire quindi mi presentavo vestito da Gigli o da insomma da Helmut Lang insomma avevo vestito nei primi di Squared e andavo in televisione vestito così e ballavo e quindi questo è il modo di ballare e di creare comunque atmosfere quasi come nei film invece che i balletti con i passi di danza quindi un mondo e quando hai visto che questa cosa funzionava lei è cominciata ad applicare anche sugli altri anche sugli altri quindi mi chiamò Baglioni mi diede gli stadi e io chiedi questo per l'outfit o anche per la scena? la scena un po' tutto perché io non riesco a distinguere cioè io non riesco a fare i passi per me se tu mi dici Luca voglio fare non so questo questo momento io penso a te come ti vesti come ti muovi come profumi o quello che devi pensare mentre lo fai gli occhi che devono raccontare per me è un pezzo di vita non è un pezzo di ballo ti faccio adesso delle domande molto banali che tutti ti vorrebbero fare quando si fa una coreografia da dove si comincia? dipende ti ricordo il mio capitano con Francesco sì certo dipende nel senso se devo fare quello per Francesco faccio dei movimenti che tutti possono copiare quindi lì sei partito un po' dal gioco a giù e di cecchetto quella cosa facile per tutti però ecco io penso sono sempre stato affascinato da chi inventa cose nuove o chi ricicla le cose belle vecchie e riesce e tu di che fazione fai parte? la prima che le inventi io sono di testa coreografo cioè ragionato quindi io ragiono sulle coreografie voglio comunicare col pubblico quindi che cosa faccio? penso cosa riesce a coinvolgere queste quattro persone ma in quattro qua dentro queste quattro persone adesso non mi metto a fare il figo cioè faccio il ballo più figo che c'è che voi non riuscite a fare spesso i coreografi peccano di questo o come un dj che mette la musica e balla solo lui perché la musica è figa e questa è la musica che va e che deve andare no? io dico ma se non fai ballare la gente quindi fai una cosa wow e scenica che nella possibilità di tutti delle persone che hai intorno a te oppure che li rapisce a tal punto che li emoziona quindi che non ne fanno parte fisicamente ma vedono qualcosa di meraviglioso quindi meravigliare il pubblico per fare questo li devi conoscere o lo riesci a fare solo al primo sguardo? devi conoscere il pubblico devi conoscere il pubblico Mariangela Melato con cui ho avuto un'amicizia importante e ho lavorato in teatro mi ha insegnato mi ha detto Luca tu vai a guardare nel pubblico e raccontami del pubblico dimmi cosa dicono cosa fanno sentili respirare vedi se guardano il cellulare guarda quando guardano il cellulare quindi tu capirai come ballo da come reagisce il pubblico e io dal pubblico ho iniziato da lì ho iniziato a capire tantissime cose cioè come respira il pubblico è strano però se hanno il sospiro sospeso per esempio ecco io adesso per esempio riesco a fare scommesse e vincerle su quando il pubblico applaudirà con le mie assistenti con Daniela con Roberta quelle storiche io scrivo la musica e poi scrivo qui parte l'applauso e ci beccò e riesco a costruirlo perché coordino la musica con le immagini video e con le luci col ventilatore col vento riesco a coordinare tutto con la musica col crescendo a portare il pubblico ad applaudire è un po' come Michael Jackson che comandava il pubblico ho imparato un po' da lui pure perché io poi non sono bravo io sono mi impegno cioè io voglio essere bravo ma non ce l'ho così facile tanti non capiscono quando facevo le puntate di X Factor io quasi svenivo alla fine perché dovevo lavorare trenta ore al giorno ma non ci sono trenta ore ci sono ventiquattro ore quindi dormivo non mi drogo tanti pensano che mi drogo io non mi drogo mai quindi non è più un'abitudine no 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 non è più inteso ma non lo è quando ho ventun'anni però spesso sono talmente fomentato che tanti l'hanno pensato non lo so pure X Factor tanti scrivono ma guarda come sta no no io sono proprio dentro alla palla del mio lavoro quindi per arrivare a fare un ottimo prodotto io devo dare non me stesso devo dare me stesso e il culo di tutti gli altri e ho bisogno di una squadra pazzesca quindi cerco non il talento ma le persone che sono appassionate soprattutto che rimangono meravigliate dal lavoro dalla bellezza perché è veramente tosto in una squadra come X Factor la migliore del mondo quanti sono perché immagino che tu abbia delle figure esecutive quindi che fanno e hai delle figure speciali che pensano anche e che insieme a te hanno la magia la scintilla l'illuminazione quante persone speciali nella squadra di Sky X Factor tu avevi? la parte del spettacolo ero solo nel senso che costruivo tutta la parte musicale da solo e tutte le performance gli opening ero io e la creavo in corsa perché nel giovedì per esempio dopo la puntata venivano confermate le canzoni era molto faticoso farci dare le canzoni e l'ok delle canzoni ai giudici perché volevo vedere come andavano i ragazzi in puntata questo significava per me rimanere sveglio tutta la notte avere dei tempi dilatati ma dilatati io dovevo pensare alle messe in scena con un budget ridotto quelle messe in scena dovevano essere presentate il venerdì mattina in riunione convincere i capi di Sky convincere Lorenzo Mieli convincere la curatrice convincere gli altri autori convincere i giudici di quello che avevo pensato convincere tutti e spendere e stare dentro a un budget con quattro ballerini non quaranta che ci sono amici quattro con scenografie che non esistevano che andavano costruite durante il weekend sabato e domenica se poi ti dico tutti i miei problemi era una cosa allucinante e tutto doveva costare molto poco tanto poco non posso dire la cifra perché no 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 però mi ha sorpreso quello che hai detto tu che rispetto a Rai avevi molto meno budget e su Sky era molto più internazionale X-Factor e tu hai detto perché ti hanno fatto esprimere con Free Mantle siamo riusciti con la produzione a costruire una formula proprio creativa e di realizzazione dove abbiamo preso questo capannone e è diventato una factory ci piace dirlo perché sono fan di Andy Warhol grazie a lui siamo tutti qui penso oltre che Dio ma soprattutto abbiamo costruito come negli anni 60 Falqui uno studio dove generavamo tutto eravamo madri generatrici di scenografie che riciclavamo ogni settimana e grafiche c'erano tutti i dipartimenti e io ero sopra tutti quindi ero sempre lì dentro spesso c'era il camerino con il lettino dormivo lì con il divano spesso e lavoravamo 20 ore al giorno come dei pazzi tutti infatti ricordo che non l'avevo mai visto fare in un programma che ti ringraziavano sempre a fine puntata eri proprio come dire un perno molto importante dell'emozione poi c'era il lavoro faticoso sicuramente di molte altre persone però eri proprio quella persona che aveva messo quell'ingrediente che l'aveva reso wow no poi era stato chiesto di non ringraziarmi pensa perché era tanto esagerata era più che sentito ma Cattela mi prendeva per il culo un applauso Luca Tocansini era diventato quasi imbarazzante ovviamente era molto piacevole ma era un'esperienza che facevamo tutti insieme e in un certo modo io rappresentavo tutta la squadra la rappresento ancora con la squadra lì perché poi il mondo ci ha chiesto come fate io facevo i cambi scena per esempio come la Ferrari quando fa i cambi delle ruote facciamo le prove dei cambi scena con attrezzismo violento si chiamavano con la loro maglietta addosso io perché i miei ragazzi lì di Gigi e tutti i ragazzi del backstage sono i migliori al mondo è la squadra più bella della storia della televisione finora faccio qualche nome molto importante con cui tu hai lavorato quindi non che hai conosciuto di straforo ma ci hai lavorato Prince Madonna Michael Jackson il tuo grande mito ma dei tre la persona con cui hai passato più tempo è Madonna giusto? Whitney Houston l'hai detto prima piuttosto che Madonna si tanti anni come vive Madonna? allora intanto la cosa più sorprendente di Madonna è che lei è la persona più normale del mondo tutti si aspettano vita sana sanissima lei per esempio una cosa che rispetta sempre anche una grande insegnante lei mi ha insegnato molto mi ha dato molto è la cosa dell'appuntamento la mattina con lo yoga cioè lei si sveglia sempre alla stessa ora lei dice qualsiasi cosa tu fai anche se ti concedi di uscire andare in discoteca bere quello che vuoi però tu devi rispettare l'orario di quando ti alzi è quello che inizia domani lo devi sempre fare è perché se tu non lo fai domani non potrai più uscire non ti puoi più concedere questo rapporto infatti ho imparato molto questa cosa che quando ti dicevo io non mi drogo più non bevo è perché fai dei patti con te stesso quindi lei ti insegna questa cosa e lei la fa non ne parla soltanto è la dimostrazione un'altra cosa simpatica che ti posso dire è che la sua normalità è molto rigida è come una madre per esempio mette delle regole cioè chi arriva tardi per esempio al lavoro c'ha la multa la prima ora 100 dollari la seconda 200 la terza licenziato in tronco ma l'ho visto ha imparato abbiamo subito cose violenze perché poi sono diventato stronzo mica così l'ho subito un po' perché poi diventa un po' come fare il militare che ti insegnano quindi lei è molto tosta tostissima se ti devo dire che lei per esempio negli hotel per controllare tutti fa controllare i secchi e l'immondizia di ogni stanza fa controllare sotto i balconi e le finestre fa fare tutto il perimetro sotto e fa controllare lo scarico delle volte dei cessi cioè per vedere con che disciplina lo impone che non ci siano droghe nel si è licenziato in tronco certo ah questa è una cosa bellissima molto bella stupenda molto bella stupenda e quindi lei fa una vita normale regolare va a letto alle 4 del mattino si sveglia comunque alla stessa ora per fare yoga mangia bene si allena vive le sue follie per esempio se si innamora di un italiano mi chiama a me di solito quindi negli anni si è innamorata parecchie volte non dimenticherò mai quello che ho raccontato un po' si era innamorata di Alessandro Gasman perché vedemmo insieme come si chiamava il bagno turco dove lui ha un esperienzo emosessuale me lo ricordo di Ferzan quindi mi fece tornare in Italia perché vivevo lì in America poi diventai amico di Ferzan siamo ancora amici per fortuna abbiamo appena fatto un film insieme e andare a cena con Ferzan per arrivare ad Alessandro Gasman per organizzare una cena una festa a casa mia a Roma che lei sarebbe venuta per conoscere Alessandro però poi mi disse lei devi dire Alessandro devi venire da solo ma lui è sposato non può insomma non successe mai è una che poi si diverte anche a vivere le sue passioni però prende di notte parte se deve andare a casa di qualcuno per dire ti amo urlarlo da sotto dalla strada ricordo un amore più eccentrico rispetto a Gasman che è Rodman Dennis Rodman te lo ricordi? c'era in quel periodo lui era super pop come personaggio tu sai che faceva lei per lui cioè lei piaggiava perché lui non se la filava all'inizio ma lei andava dove lui giocava diventa niente diventa piccola così è un esempio umano fortissimo per questo la parte umana rimane molto importante e solida in tutte le grandi star che ho conosciuto cioè credo che siano stati grandi star perché sono stati grandi e sono grandi esseri umani o perlomeno molto quadrati tra le Whitney sì ok e purtroppo a volte le droghe ti fanno perdere il timone della tua vita quindi non sei più tu che vieni a mancare ma sei tu che hai perso un pezzo fondamentale per la lotta i droghe illegali e illegali poi perché il problema di Michael sono state le droghe illegali e anche quello di Prince parli delle medicine medicine Michael è il tuo sogno incontrarlo chiaramente il tuo mito da piccolo ha ispirato i tuoi primi passi nel ballo e anche nella musica immagino Madonna te lo presenta oggi lo stavo ridendo perché stavo pensando a quell'episodio perché ho detto incontrarlo perché lei sapeva io dicevo sempre a lei ma guarda tu la sfiga nella vita io volevo fare il ballerino di Michael Jackson divento il ballerino tuo e lei rideva sempre di questa cosa eravamo in Messico con il nostro tour con Madonna e mi dice stasera ti porto a vedere conoscere Michael non ci credo mi porta a vedere prima il concerto seduto vicino a lei mezzo allo stadio a Mexico City e poi prima nella fine come al solito si va dietro le quinte per conoscere per salutare la star che ha fatto il concerto quindi ci prendono io non ci potevo credere attaccato a Madonna vado dietro fino a che non ci sbattono davanti alla porta con scritto Michael Jackson e Madonna bussa apre la porta e c'è un Michael Jackson ma non è il Michael Jackson è un sosia quindi la scena proprio vabbè è stata proprio una scena insomma molto triste poi perché in realtà poi si scopre che erano i giorni in cui veniva denunciato per le prime volte che Lee Stello l'aveva portato via dal Messico l'aveva portato in Svizzera che per mesi non si sapeva dove fosse finito Michael Jackson insomma la scena ma il sosia aveva fatto il concerto anche? il sosia non aveva fatto il concerto sembra che sia sparito Michael perché lui faceva delle cose alcuni numeri non era lui che li faceva per esempio Jamie King che è un ballerino storico adesso è un direttore artistico anche lui faceva parte del concerto quando Michael per esempio faceva Thriller che aveva il mascherone era Jamie che lo faceva spesso non era lui e spesso c'era il playback per cui da lontano con le luci quando lo vedevi contro luce o quando volava via alla fine del concerto non era lui quindi a quanto pare è volato via tipo 20 minuti prima della fine del concerto cioè quindi lui c'è stato c'è stato e per non essere assalito da da tutto il post concerto ha lasciato lì un sosia non post concerto lui aveva il problema dei giornalisti e di tutte le televisioni del mondo perché era stato iniziato esatto il post concerto voleva dire o fanno giornali tutto quello che sarebbe successo dopo quindi è sparito dal mondo è stato il momento proprio il momento in cui io dovevo conoscerlo però c'è stata un'altra occasione perché ci hai lavorato poi ci ho lavorato però aspetta il sosia è una cosa che fanno in tanti grandi star mondiali solo lui lui soprattutto credo anche altri ma lui ne aveva tipo 20 perché tanti si facevano le operazioni come lui c'era più facile somigliare a Michael facendo le operazioni che somigliare a Madonna che invece non ha le operazioni ok perché tu non puoi somigliare a qualcuno che non è stato tanto operato cioè difficile con Michael invece era abbastanza facile con Madonna Madonna no per esempio se stavamo in Brasile a San Paolo questa cosa fa un po' ridere noi arriviamo a San Paolo era talmente pericoloso che non c'era mai stata Madonna lì decide di andare comunque dice guarda è pericolosissimo quindi ci portano dall'aeroporto scendiamo direttamente dall'aereo nostro avevamo gli aerei privati quindi scendevamo e ci mettono dentro delle camionette da banca per trasportare blindati blindati ma al buio sentivamo soltanto gente che faceva tutto il tragitto che salivano sopra che urlavano cantavano e noi lì dentro così ci mettono dentro un garage ci fanno scendere ci coprono e ci portano nelle stanze tutto l'hotel era oscurato da fuori come aprivamo la tenda vedevamo solo gente arrampicata sui palazzi 24 ore al giorno che ballava e che cantava una cosa spaventosa con lei vivere con lei e lì lei per uscire si organizzava e si metteva una parrucca raccontami un episodio di Michael quindi lo conosce e ci lavori e ci fai anche blood on the dance floor esatto raccontami qualcosa di lui quello che mi ha sorpreso è stato intanto ritrovarselo in sala prove io ero scioccato venivo da tre anni con Prince dove c'era il regolamento di quello che potevi fare e dire e non fare per cui non potevamo guardare Prince negli occhi non potevamo rivolgere la parola non potevamo mai considerarlo presente era stranissimo quindi ballare con Prince stare in sala ballare con Prince quindi con Michael invece l'approccio è stato completamente differente lui all'improvviso si presenta in sala prove e non c'era nessun regolamento che era strano anche con Diana Ross avevamo regolamento con le grandi star c'erano regolamenti di comportamento rispetto all'artista rispetto all'artista più gli americani più sono grandi gli artisti più regolamenti adesso J.Lo per esempio ti manda 10.000 e-mail perché non basta un e-mail per mandarti è per misurare un po' il tuo livello un po' uno snobby un modo per essere fighi però con Michael non ci arriva niente per cui si presenta in sala prove con un entusiasmo e mi viene vicino il coreografo mi piaceva come ballavo le cose me le faceva dimostrare a me e a Michael quindi ero io che ballavo per Michael e lui mi faceva gli applausi e poi devo dirgli come fare e poi il coreografo diceva dai Luca allora vai a giocare con Michael facciamo un attimo di pausa e mi mandava a giocare con lui Michael mi prendeva per mano tipo un bambino era un bambino a parte il tic tac che mi tirava il tic tac di nascosto poi dopo sul set io mi giravo c'era lui che si nascondeva che sorrideva mi prendeva per mano e mi portava fuori e c'erano i tir suoi parcheggiati che lo seguivano ovunque con la parte per la diciamo la parte costumi la parte infermeria cioè la parte videogames la parte film la parte per dormire la parte per mangiare quindi c'erano dei tir enormi con tutte queste cose dentro e lui mi portava soprattutto a fare a giocare i videogames che io odiavo tra l'altro per cui vinceva sempre lui era contento cioè è un'infanzia mai vissuta che lui a pochi anni di vita con i suoi quattro fratelli è stato già messo su un palco quindi aveva ancora voglia di giocare di essere un bambino di essere un bambino e credo che lui sia diventato così grande perché poi mi dice Luca sai questo video uscirà in tutte le televisioni come un bambino contemporaneamente e quindi sarà il video più visto con quell'entusiasmo dei bambini e credo che lui scommettendo tipo bambino giocando come un bambino abbia conquistato il mondo ma perché aveva il più grande talento sul palco invece di Prince quindi oltre alle regole di non porterlo a guardare negli occhi mi racconti qualcosa di lui? tanto lui si cambia si toglie il nome diventa il simbolo quindi già non potevamo parlarci poi non potevamo nemmeno nominarlo perché non potevamo pronunciare Prince più quindi la cosa era molto strana però diventiamo noi lo strumento per fare promozione cioè lui mette insieme dodici ballerini i migliori che ha trovato per fare ognuno diventare una canzone io ero Daddy Pop che era una canzone di quell'album e facciamo promozione così tra noi c'era anche Carmen Electra che poi è diventata famosa per Baywatch e che lui lui di Carmen che era una mia amica una ballerina si innamora quindi io tramite Carmen che eravamo molto vicini vivivo tutto il processo di diventare la donna di Prince perché tutti volevano sapere perché nessuno sa tanto cioè non si sanno queste cose quasi niente quindi c'era regolamento per andare a letto con Prince non è vero sì ma è stupendo perché la donna doveva andare a letto con i tacchi vabbè poi rimanere sempre con i tacchi c'era scritto dove guardare come respirare cosa dire nel momento in cui tu raggiungi come complimentarsi e poi soprattutto come svegliarsi o non svegliarsi nel senso doveva svegliarsi prima lui se sei sveglia tieni gli occhi chiusi finché lui non viene lì truccato pettinato vestito e ti dà il buongiorno e lì apri gli occhi sfigata come non mai Carmen diceva perché dice ma io mostro e lui tutto truccato che batteva così gli occhi e le ciglia qual è il tuo sogno cosa vuoi realizzare perché stai facendo tutto questo io penso che tu prima in riunione credo che ti abbia detto qui del fatto che la mia vita veramente ha un grafico sali e scendi sali e scendi nel senso che è come una canzone non lo so per il momento è iniziata non so quando finirà ma a varie parti anche di svuotamento totale di depressione per tanti anni sono stato depresso ho preso gli antidepressivi poi ho avuto il problema del bike come Michael Jackson come Prince e come tante persone a Hollywood che ti danno questi antidolorifici e non riesci a smettere per cui ci sono stati tanti momenti di crollo totale però quasi per quanto sono stati difficili dolorosi e quasi impossibili da superare sono quelli che mi hanno dato di più adesso penso che quando qualcuno mi fa un complimento sentito è vero perché mi dice ho visto quella cosa tua mi ha piaciuta mi ha emozionato lì dentro c'è tutto il mio dolore emoziona le persone perché le persone credo che riconoscano non solo la cosa bella ma la parte pure brutta perché è quella che emoziona che riesco per questo a fare delle cose che comunicano a tante persone qual è la prossima tappa cioè cosa vuoi fare mangiare non scherzo no la prossima tappa il cinema e anche l'opera ti affascina quel mondo madonna mia sì perché vorrei raccontarlo con il mio linguaggio oggi con quello che ho imparato e applicarlo su un'opera classica ecco se una persona volesse fare la tua vita anche se la tua vita è talmente atipica e non facile da raggiungere ma parliamo del ballerino un ragazzo oggi che vuole fare il ballerino quali sono i passi che tu consigli da cintura nera ottavo dan di questo argomento ma intanto dipende da che tipo di ballerino lo dico perché non c'è molto lavoro quindi se vuoi fare il ballerino classico bene ci sono delle compagnie classiche i corpi di ballo delle compagnie classiche sono pochi sotto di 10 in Italia ok quindi parliamo di centinaia di posizioni quindi pochissimi poi ballerini contemporanei moderni o jazz o hip hop dove lavorano fare un videoclip in Italia per esempio per un cantante significa non mangiare non ti pagano o ti pagano qualche centinaio quindi scusami sto parlando di questo perché no fai bene tu dici come si può mantenere uno che lo fa di professione oggi è difficilissimo oggi è difficilissimo quindi o fai parte per esempio in Italia o fai parte così uno ha subito un'idea fai parte del corpo di ballo di amici quindi oggi con Giuliano Peperini che è uno dei più bravi molto molto ma quello è ok quindi la realtà televisione non è poche quindi dipende da che tipo di ballerino io quasi sconsiglio penso che bisognerebbe ballare per se stessi perché se qualcuno mi dice io ho ballato per esempio io volevo fare il ballerino non volevo diventare famoso e per questo forse sono diventato famoso è il contrario e quindi se oggi il problema per esempio si pone davanti alle persone ragazzine che ti dicono voglio diventare famoso e dico come qualche modo perché poi ci vogliono vent'anni di studio per diventare un ottimo ballerino insomma chiudo dicendoti questo e ti racconto un rito che faccio su di me ogni anno sempre per essere centrato sui miei obiettivi visto che tu sei un uomo di obiettivi mi scrivo una lettera utilizzo un servizio che me la spedisce dodici mesi dopo dal momento in cui io l'ho scritta e mi scrivo i miei i miei obiettivi quello che vorrei aver realizzato nel corso di quell'anno e allora quello che ho chiesto a tutte le persone che hanno partecipato a questo podcast è di fare la stessa cosa ti do un foglio di carta una busta un tubetto di colla una penna e mi piacerebbe che tu scrivessi a te stesso quindi dopo la chiudi mi scrivi il tuo indirizzo io farò solo il postino per te te la farò avere tra dodici mesi per permetterti di fare il tuo bilancio personale puoi mettere uno o più cose nelle sfere che tu desideri quindi l'amore l'amicizia il lavoro tutto quello che vuoi Luca grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te